il signor marambo aprì la lettera che gli consegnava a denis il suo domestico e sorrise denis un uomo piccolo tozzo e gioviale che serviva in quella casa da vent'anni ed era conosciuto in tutta la contrada come un domestico modello chiese il signore è contento il signore ha ricevuto una buona notizia il signor marambo non era ricco ex farmacista del villaggio celibe viveva di una piccola rendita raggrenellata fatica vendendo medicina ai contadini rispose sì ragazzo mio ma lo ha famarsi indietro per paura della causa di cui lo minaccio domani riceverò il mio denaro 5.000 franchi non stanno male nelle tasche di un vecchio scapolo il signor marambo si fregava le mani era un uomo di carattere remissivo più triste che allegro incapace di uno sforzo prolungato trascurato nei propri affari avrebbe certamente potuto godere di una maggiore agiatezza se avesse approfittato della morte dei colleghi residenti in centri importanti per andare ad occupare il posto e assorbirne la clientela ma la noia di trasferirsi e il pensiero di tutte le pratiche che avrebbe dovuto compiere l'avevano sempre trattenuto e dopo due giorni di riflessione si accontentava di dire basta sarà per un'altra volta non perdo nulla ad aspettare può darsi che trovi di meglio dennis invece incitava il padrone a prendere delle iniziative di carattere attivo ripeteva di continuo oh se l'avessi avuto io un capitale iniziale avrai fatto fortuna mi bastavano mille franchi e ora sarei a posto il signor marambò sorrideva senza rispondere e se ne andava nel giardino a passeggiare con le mani dietro la schiena fantasticando per tutta la giornata dennis cantò pieno d'allegria ritornelli e ballate paesane mostrò persino un'attività insolita si mise a lavare i vetri di tutta la casa e a lucidarli con ardore intonando a squarciagola le sue canzoni il signor marambò stupito di tanto zelo gli disse più volte sorridendo se lavori così ragazzo mio non ti resterà più nulla da fare per domani il giorno dopo verso le nove del mattino il postino consegnò a dennis quattro lettere per il suo padrone di cui una molto pesante il signor marambò si chiuse subito in camera sua fino al pomeriggio inoltrato allora consegnò al domestico quattro buste per la posta una era indirizzata al signor malua era senza dubbio la ricevuta del denaro dennis non fece domande al padrone quel giorno parve triste e cupo quanto era stato allegro il giorno innanzi scese la notte il signor marambò si coricò alla solita ora e si addormentò fu risvegliato da un rumore strano subito s'alzò a sedere sul letto e si mise in ascolto ma ad un tratto la porta si aprì e dennis apparve sulla soglia con una bugia in mano un coltello da cucina nell'altra gli occhi sbarrati e fissi le labbra e le guance contratte come di chi è sconvolto da un'orrenda emozione e così pallido da sembrare un fantasma il signor marambò sbigottito credette che fosse diventato sonnambulo e stava alzandosi percorso gli incontro quando il domestico soffiò sulla bugia e s'avventò verso il letto il padrone protese le mani in tempo per ricevere il colpo che lo gettò disteso sulla schiena ora credeva che il domestico fosse impazzito e cercava di afferrargli le mani per parare i numerosi colpi che gli vibrava il coltello lo colpì una prima volta alla spalla una seconda in fronte una terza al petto si dibatteva disperatamente agitando le mani nel buio tirando anche calci gridando dennis dennis che fai dennis ma l'altro ansante saccaniva sempre a colpirlo respinto ora da un calcio ora da un pugno ritornava faticosamente all'assalto il signor marambò fu ferito ancora due volte alla gamba e una al ventre ma d'improvviso un rapido pensiero gli attraversò la mente e si mise a gridare finiscila finiscila dennis non l'ho ricevuto il denaro l'uomo si fermò di colpo e il padrone udiva nell'oscurità il suo respiro affannoso il signor marambò aggiunse subito non ho ricevuto nulla il signor malua ha cambiato idea la causa si farà è per questo che hai portato le lettere alla posta leggi leggi ti dico quelle che sono sul mio scrittoio e con un ultimo sforzo afferrò i fiammiferi sul comodino e accese la candela era ricoperto di sangue degli spruzzi caldi avevano acchiazzato il muro le lenzuola le tende tutto era rosso dennis anche lui insanguinato dalla testa ai piedi stava ritto in mezzo alla stanza a questo spettacolo il signor marambò si credette morto e svenne riprese conoscenza sul fare del giorno ci volle un po' di tempo prima che riprendesse i sensi che capisse e rammentasse ma ad un tratto il ricordo dell'attentato e delle ferite gli ritornò e una paura così forte si impadronì di lui che chiuse gli occhi per non vedere dopo qualche minuto lo spavento passò e cominciò a riflettere non era morto subito quindi poteva cavarsela si sentiva debole molto debole ma senza dolori violenti sebbene provasse in diverse parti del corpo un sensibile fastidio come dei piccoli morsi si sentiva anche gelato tutto bagnato e stretto tutto fasciato da bende pensò che quell'umidità venisse dal sangue perduto e brividi d'angoscia lo scuotevano al pensiero orrendo di quel liquido rosso sgorgato delle sue vene e che aveva inzuppato il suo letto l'idea di rivedere quello spaventoso spettacolo lo sconvolgeva e gli faceva tenere gli occhi chiusi con forza come se dovessero aprirsi il suo malgrado che ne era di Dennis? forse era fuggito? ma adesso lui, Marambeau che doveva fare? alzarsi? chiamare aiuto? ma se faceva una sola mossa le ferite si sarebbero senz'altro riaperte e sarebbe morto di sanguato a un tratto udì spingere la porta della sua camera il suo cuore quasi cessò di battere era certamente Dennis che veniva per finirlo trattenne il respiro affinché l'assassino ritenesse compiuta la sua opera sentì che qualcuno sollevava il lenzuolo poi gli palpava il ventre un dolore acuto vicino all'anca lo fece trassalire ora lo lavavano con acqua fresca molto delicatamente dunque avevano scoperto il delitto e lo curavano lo salvavano una folle gioia lo invase ma per prudenza non volle mostrare d'aver ripreso i sensi e socchiuse un occhio uno solo con la massima precauzione in piedi accanto a lui riconobbe Dennis Dennis in persona misericordia richiuse l'occhio precipitosamente Dennis che faceva allora? che voleva? quale orrendo progetto nutriva ancora? che faceva? ma lo lavava per nascondere le tracce poi lo avrebbe seppellito un giardino a cinque metri sotto terra perché non lo scoprissero o forse in cantina sotto le bottiglie di vino pregiato e signor Marambeau si mise a tremare così forte che tutte le membra gli sussultavano si diceva sono perduto perduto e chiudeva disperatamente le palpebre per non vedere vibrare l'ultima coltellata non la ricevette Dennis ora lo stava sollevando e fasciando con panni di lino poi cominciò a medicargli con cura la piaga della gamba come aveva imparato a fare quando il padrone era farmacista non c'erano dubbi per un uomo del mestiere il domestico dopo aver cercato d'ammazzarlo tentava di salvarlo allora il signor Marambeau con la voce morente gli diede un consiglio pratico i lavaggi e le medicazioni falli con la catramina sciolta nell'acqua Dennis rispose è quel che sto facendo signore e signor Marambeau aprì tutti e due gli occhi non c'erano più tracce di sangue né sul letto né in camera né addosso all'assassino il ferito era colicato fra candi e lenzuola i due uomini si guardarono finalmente il signor Marambeau disse tranquillamente hai commesso un grave delitto Dennis rispose sto cercando di ripararlo signore se non mi denunciate vi servirò fedelmente come in passato non era il momento di scontentare il domestico e signor Marambeau richiudendo gli occhi disse giuro di non denunciarti Dennis salvò il padrone trascorse giorni e notti senza dormire senza mai abbandonare la camera del malato preparandogli medicine tisane pozioni tastandogli il polso contando ansiosamente le pulsazioni curandolo con l'abilità di un infermiere e la dedizione di un figlio ad ogni momento chiedeva allora signore come vi sentite con voce flebile il signor Marambeau rispondeva un po' meglio ragazzo mio grazie e quando la notte il ferito si destava vedeva spesso il suo infermiere seduto in una poltrona piangere e asciugarsi gli occhi in silenzio mai il vecchio farmacista era stato così ben curato viziato vezzeggiato sul principio si era detto appena sarò guarito mi leverò dai piedi questo delinquente ora era convalescente e di giorno in giorno rimandava il momento di separarsi dal suo aggressore nessuno pensava ne avrebbe usato tanti riguardi e tante cura quell'uomo era nelle sue mani grazie alla paura e lo avvisò che aveva depositato presso un notaio un testamento in cui lo denunciava alla giustizia se gli fosse capitato un nuovo incidente questa precauzione gli sembrava garantirlo per l'avvenire da ogni nuovo attentato e si domandava allora se non sarebbe stato persino più prudente trattenere quell'uomo presso di sé per sorvegliarlo attentamente come in passato quando esitava ad acquistare una farmacia più importante così ora non poteva decidersi a prendere una risoluzione sarò sempre in tempo si diceva Dennis continuava a mostrarsi un incomparabile servitore il signor Marambo era guarito non lo licenziò ora una mattina stava terminando la colazione quando udì improvvisamente un gran fastuono in cucina a corse Dennis si dibatteva trattenuto da due gendarmi il brigadiere scriveva gravemente appunti sul suo tacquino appena vide il padrone il domestico si mise a singhiozzare gridando ma avete denunciato signore non è una bella azione dopo quello che mi avete promesso avete mancato alla vostra parola d'onore signor Marambo non sta bene non sta bene il signor Marambo stupito e afflitto ad essere sospettato alzò la mano giuro davanti a Dio figliuolo di non averti denunciato ignoro nel modo più assoluto come i gendarmi abbiano potuto sapere del tuo tentato omicidio contro di me il brigadiere ebbe un sussulto ha tentato di uccidervi signor Marambo il farmacista smarrito rispose ma sì ma io non l'ho denunciato non ho detto nulla giuro di non aver detto nulla mi serviva benissimo da allora il brigadiere dichiaro veramente prendo nota della vostra deposizione la giustizia valuterà questo nuovo motivo che ignorava signor Marambo sono incaricato ad arrestare il vostro domestico per furto di due anatre da lui sottratte fraudulentemente al signor Duomel reato del quale esistono due testimoni vi chiedo scusa al signor Marambo riferirò la vostra dichiarazione e voltosi verso i suoi uomini comandò avanti march i due gendarmi portarono via Denis L'avvocato difensore sostenne la tesi della follia sottolineando la contemporaneità dei due delitti per rafforzare la sua argomentazione aveva dimostrato in modo evidente che il furto delle anatre era un effetto dello stesso stato mentale che aveva provocato le otto coltellate contro Marambo aveva sottilmente analizzato tutte le prove di quello stato di passeggero alienazione mentale destinato senza alcun dubbio a guarire con un trattamento di qualche mese in una casa di cura per malattie mentali aveva parlato in termini entusiastici della dedizione continua di quell'onesto servitore delle cure incomparabili di cui aveva circondato il padrone da lui ferito in un momento di smarrimento profondamente commosso da quel ricordo il signor Marambo si sentì inumidire gli occhi l'avvocato se ne accorse aprì le brazza in un ampio gesto spiegando le lunghe nere maniche come ali di pipistrello e con voce vibrante gridò guardate signori giurati guardate quelle lacrime che altro potrei dire per il mio cliente quale discorso quale argomento quale ragionamento può valere quanto le lacrime del suo padrone e se parlano più forte di me più forte della legge gridano perdono per la follia di un momento e se implorano assolvono benedicono tacque e sedette il presidente voltandosi allora verso Marambo la cui deposizione era stata favorevole al domestico gli chiese ma insomma signore ammettendo pure che voi abbiate considerato quest'uomo un demente come spiegate di averlo tenuto presso di voi era pur sempre pericoloso Marambo asciugandosi gli occhi rispose che volete signor presidente è tanto difficile trovare un domestico oggigiorno non avrai trovato di meglio Dennis fu assolto inviato a spese del padrone in un manicomio grazie a tutti